10 aprile 2020 Venerdì Santo Dal libro del profeta Isaia Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Mi si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione vedrà una discendenza. Vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Nei potenti Egli farà bottino perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre Egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Dal Salmo 30 Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. In Te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia. Alle Tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini. Il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in Te, Signore. Dico, Tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle Tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Sul Tuo servo fa splendere il Tuo volto. Salvami per la Tua misericordia. Siate forti. Rendete saldo il vostro cuore. Voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della Sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto. Divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che Gli obbediscono. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù uscì con i Suoi discepoli al di là del torrente Cedro, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i Suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i Suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro «Chi cercate?» Gli risposero «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo «Chi cercate?» Risposero «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò «Vi ho detto «Sono io». «Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». «Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il padre mi ha dato non dovrò berlo». Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato i giudei. «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo i suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo «Così rispondi al sommo sacerdote». Gli rispose Gesù «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non volero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio fece chiamare Gesù e gli disse «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse «Sono forse io giudeo?» «La tua gente i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me che cosa hai fatto?» rispose Gesù «Il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse «Dunque tu sei re?» rispose Gesù «Tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce» gli dice Pilato «Che cos'è la verità?» e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro «Io non trovo in lui colpa alcuna vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» allora essi gridarono di nuovo «Non costui ma Barabba» Barabba era un brigante allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare e i soldati intracciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora poi gli si avvicinavano e dicevano «Salve re dei giudei» e gli davano schiaffi Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro «Ecco io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna» allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro «Ecco l'uomo» come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono «Crocifiggilo! Crucifiggilo!» disse loro Pilato «Prendetelo voi e crucifiggetelo! Io in lui non trovo colpa» gli risposero i giudei «Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio» all'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù «Di dove sei tu?» ma Gesù non gli diede risposta gli disse allora Pilato «Non mi parli non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce» gli rispose Gesù «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande» da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà ma i giudei gridarono «Se liberi costui non sei amico di Cesare» «Chiunque si fare si mette contro Cesare» udite queste parole Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostruto in ebraico Gabbatà era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno Pilato disse ai giudei «Ecco il vostro re» ma quelli gridarono «Via via crucifiggilo» disse loro Pilato «Metterò in croce il vostro re» risposero i capi dei sacerdoti «Non abbiamo altro re che Cesare» allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso essi presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio in ebraico Golgotha dove lo crocifissero e con lui altri due uno da una parte e uno dall'altra e Gesù in mezzo Pilato compose anche l'escrizione e la fece porre sulla croce vi era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei molti giudei lessero questa escrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città era scritto in ebraico in latino e in greco i capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato non scrivere il re dei giudei ma costui ha detto io sono il re dei giudei rispose Pilato quel che ho scritto ho scritto i soldati poi quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica ma quella tunica era senza cuciture tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo perciò dissero tra loro non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca così si compiva la scrittura che dice si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte i soldati fecero così stavano presso la croce di Gesù sua madre la sorella di sua madre Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala Gesù allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava disse alla madre donna ecco tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre ed a quell'ora il discepolo la colse con sé dopo questo Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura disse ho sete vi era lì un vaso pieno di aceto posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca dopo aver preso l'aceto Gesù disse è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito era il giorno della parasceve e i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato era infatti un giorno solenne quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via venero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui venuti però da Gesù vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito non uscì sangue e acqua chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera egli sa che dice il vero perché anche voi crediate questo infatti avvene perché si compisse la scrittura non gli sarà spezzato alcun osso e un altro passo della scrittura dice ancora volgeranno uno sguardo a colui che hanno trafitto dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù Pilato lo concesse allora egli andò e prese il corpo di Gesù vi andò anche Nicodemo quello che in precedenza era andato da lui di notte e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi come usano a fare i giudei per preparare la sepoltura ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nel quale nessuno era stato ancora posto là dunque poiché era il giorno della parasceve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino po zero po zero Gesù un giardino un giardino